Alta pressione con massimo sulle isole britanniche a flusso di aria relativamente fredda di origine continentale sulla nostra penisola. In Toscana, mercoledì 21 settembre, sereno o poco nuvoloso, contemporanei addensamenti. Venti deboli o moderati da nord-est, con locali rinforzi in arcipelago e lungo il litorale. Mari poco mossi, tendenti a mossi, temperature minime stazionarie, massime in calo. Anche sul territorio provinciale, cielo sereno o poco nuvoloso, localmente velato. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 14, massima 22 gradi. A Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 11, massima 20. A Via Regge, sul litorale, minima 16, massima 23 gradi. Giovedì, sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino.